In questo video tutorial vedremo come usare AWAP, una lavagna interattiva che può essere condivisa e utilizzata contemporaneamente da più utenti durante una lezione in videoconferenza con Hangouts Meet. Vedremo il procedimento prima da cellulare e poi da computer. Partiamo dal cellulare. Una volta effettuato l'accesso alla video lezione attraverso l'applicazione Hangouts Meet che avrò scaricato nel mio cellulare, selezionerò l'icona della chat che si trova al centro, sotto lo schermo principale. Nella chat troverò il link alla lavagna interattiva. Dopo aver cliccato sul link dovrò inserire il mio nome prima di partecipare alla lavagna condivisa. Qui, selezionando l'icona del matitone in alto a sinistra, dal menu potrò scegliere se scrivere o disegnare sulla lavagna oppure se inserire un'informazione di testo. Tutte le modifiche verranno aggiornate e visualizzate dagli altri utenti. Per tornare alla video lezione basterà cliccare il tasto in basso al centro e dalla schermata delle applicazioni del cellulare selezionare l'icona di Hangouts Meet. Da computer il meccanismo è identico. Una volta effettuato l'accesso alla video lezione da computer, selezionerò l'icona della chat che si trova in alto a destra. Qui troverò il link alla lavagna interattiva nella quale dovrò lavorare durante la lezione. Per riprendere la video lezione sarà necessario posizionare il cursore sulla barra delle applicazioni e cliccare sulla finestra di Google in cui abbiamo tenuto aperta la video lezione.